Settembre è il momento giusto per rinnovarsi e dal quartier generale Audi, in quel di Ingolstadt, ne hanno approfittato per sfornare la nuova Q3. L'ultima arrivata in vendita tra qualche settimana ci regala un look più sportivo e aggressivo della versione precedente, rispetto alla quale si allunga di quasi un centimetro. L'anima è quindi quella di un SUV vero e proprio, dall'abitacolo confortevole e capace di regalare un'alta e discreta visibilità. Buona anche la capacità di carico con un vano bagagli capace di 530 litri base, estendibile fino a 1525 litri, abbattendo gli schienali posteriori. Ma è a livello tecnologico ad averci guadagnato maggiormente questa nuova Q3. Le manovre sono più facili, grazie all'assistente elettronico che gestisce sia l'ingresso che l'uscita dai parcheggi. Migliorate sono poi le sospensioni, capaci di assorbire meglio che in passato le imperfezioni del manto stradale. Tra gli optional si può poi avere la regolazione delle sospensioni, che in virtù dei sensori ad hoc ne adatta la taratura in funzione delle condizioni della strada, ma anche dello stile di guida. Le motorizzazioni disponibili fin dal momento del lancio saranno 4. Si parte con 3 TFSI benzina e un diesel TDI, con una gamma di potenze che viaggia tra i 150 e i 230 CV.